Ciao a tutti, iniziamo qui con un nuovo video di pesca dalla scatola di blind bags. Anche oggi andremo ad aprirne 5, quindi vediamo un po' quali possiamo andare ad aprire. Se non avete visto le puntate scorse e le trovate sul canale c'è anche una playlist apposta in cui ci sono tutte le puntate di pesca dalla scatola dall'inizio fino a oggi, quindi potete andarla a vedere lì. Allora, iniziamo con uno di questi ovetti, dopo ne prendiamo uno di Super Mario che sono nuovi, sono costati anche abbastanza, tipo più di 6€ questi tre, quindi abbastanza direi. Poi apriamo questo qua dei Goshimi, poi aprirei uno degli slime, vediamo quale dei due. Vabbè, apriamo questo qua. Poi, allora, siamo a tre, ne mancano altre due, apriamo uno di questi e infine, non ricordo neanche cosa ci sia, quindi... Vabbè, apriamo uno di questi qua, questi squishy. E il resto lo apriamo alle prossime puntate. Vi faccio vedere anche un altro origami che ho fatto, questo qua a farfalla, che è un segnalibro. Praticamente si infila qua dietro l'angolino della pagina e diventa un segnalibro. Ho seguito un tutorial qua su YouTube, quindi lo troverete sicuramente, però devo dire che mi piace un sacco. Ho fatti anche un altro paio e li ho regalati. Allora, innanzitutto partiamo con questo qua dei Kinder Joy di Super Mario. Sono tutti tipo portachiavi o cose per le chiavi. E allora, vediamo un po'. Vi faccio vedere appunto, queste sono tre su tre, tutte e tre dovrebbero essere di Super Mario. Alcuni esempi sono questo portachiavi di Luigi, questo qua che si mette sulle chiavi o sull'orologio, non riesco a capire. Sembrano un orologio, quindi boh. Anche sull'orologio. Queste tag e quest'altra che non so cosa sia, però lo scopriremo. Allora, andiamo ad aprirlo. E ne estraiamo uno e lo apriamo uno. Gli altri li apriremo le prossime puntate. Ogni ovetto ha questo simbolo, cioè uno dei personaggi, insomma. E qua c'è la sorpresa. Ok, abbiamo trovato subito Luigi, molto carino. Veramente, veramente molto bello. E... Andiamo a checklist. Allora, questi sono tutti i personaggi che si possono trovare. Tutti i vari personaggi di Super Mario. Qua ci fa vedere semplicemente che è un portachiavi. Però è fatto veramente bene. Ok, poi... Allora, intanto andiamo avanti. Questo lo sapete com'è? Vabbè, ve lo faccio rivedere, ma tanto lo saprete. L'avrete tutti mangiato. Eccolo qua. Allora, adesso invece andiamo ad aprire questi. Che sono gli unicorns e sono degli squishy. Alcuni si illuminano al buio, altri no. Questa è la checklist. Ci sono alcuni... Cioè, tutti gli animali sono unicorni. Ci sono anche i draghi, i panda. E appunto alcuni brillano al buio. C'è il narvalo, la volpe, così via. Vediamo chi abbiamo trovato. Oh, che carino! Abbiamo il narvalo. Qua ha un difetto sull'occhio di colorazione, peccato. E questa brilla al buio. Allora. Lily brilla al buio. E questa è appunto tutta la checklist. Di nuovo. È carinissimo questo, però. Questi ho visto che però, stando al sole, dopo un po', inizia a rovinarsi la plastica. Quindi magari non li tenete al sole. Questo è molto carino, però, veramente. Mi piace un sacco. Parte l'occhio qua, purtroppo, però è molto carino. Andiamo avanti. Ok, adesso andiamo con i goscimi. Sono questi qua. Sono praticamente dei pupazzetti in peluche. Abbiamo trovato dolly, ovviamente, si possono scegliere. Eccola qua. E praticamente, questi qua, hanno ognuno un simbolo. Questo qua c'è il gelato. Molto carina. E hanno dentro dei semini, che se voi li mettete in forno a microonde, non forno normale, forno a microonde, si riscaldano e vi riscaldano le mani. Sono molto carini. Fatti bene. E allora, il prezzo era 3,50, quindi ottimo. Sono fatti davvero bene. Anche i dettagli qua sono tutti cuciti. E quindi, niente, piacciono. Se li trovate, ve li consiglio. Andiamo avanti. Ora, invece, apriamo uno di questi Dino Eggs, che ne ho ancora un po' da aprire. Questi, come al solito, se li mettete in acqua, si schiude l'uovo e si ingrandiscono. Diventano fino a 12 centimetri. Il prezzo è 2,50 euro. Vediamo chi troviamo noi. Ok. Allora, abbiamo trovato l'Elasmosauro. Questa è tutta la checklist. E queste sono le sue caratteristiche. E qui, appunto, vi dice che se lo mettete in un bicchiere per più o meno 24 ore, poi diventa più grande. Ora, io non lo sto a far crescere. Rompo semplicemente l'uovo e vediamo subito il personaggio che contiene. Allora, eccolo qui. E' appunto sull'arancione rispetto alla raffigurazione su cui era blu. E gli occhi sono, diciamo, poco dettagliati. Però, appunto, come vi ho sempre detto, questi qua è più che altro una questione di gioco, in quanto lo vedete crescere. Piuttosto che la figure, che magari non ha tutte queste caratteristiche ben definite. Però, è molto carino, comunque. E' divertente, appunto, vederli crescere. Andiamo all'ultima cosa, che è lo slime. Allora, eccolo qua. Questo è sui toni del blu, celeste e bianco perlato. Qua ha dei glitter da poter raggiungere. E qua dentro altri glitter, che sono a sorpresa. E questo costava 4 euro più o meno. Allora, qua c'è lo scotch, quindi lo vado a togliere e vediamo com'è. Allora, eccolo qua. Innanzitutto profuma. Veramente buonissimo. E' un profumo tipo muschio. Silvestre, diciamo. Quelle, a sorpresa, erano delle cane. Che sono queste qui. Con i fiorellini, molto carine. E, appunto, questi altri, invece. Sono dei glitterini, che potete usare anche per fare altre cose. Dei mezzi glitter. E adesso vediamo i singoli slime, come sono. Allora, questo qua, innanzitutto, è già glitterato. Spero che stia mettendo a fuoco, ok? E ci sono tutti i glitter rosa. E' molto, molto carino. E' abbastanza elastico. Dovete tirarlo piano, perché sennò si spezza. Però è, direi, abbastanza elastico per essere uno slime, diciamo, di fabbrica. E' molto bello. Mi piace. Quindi il primo, molto carino. Poi c'è questo che si è un po' mischiato con il bianco. Ed è questo qua, celeste. Questo non mi pare abbia glitter. No. Questo è un pochino più duro dell'altro. Più, non so come si chiama, patty? Mi sembra. Comunque è più, vedete, meno elastico rispetto all'altro. Però è molto carino lo stesso. Non si spezza, direi. Quindi, anche questo, direi, che ho provato. Ultimo è questo qua, bianco perlato. Vediamo. Questo qui è più elastico, invece, dell'altro. E' molto bello il colore. Belli, mi piacciono. E per ora non si stanno appiccicando sulle mani. Quindi, per me, sono ottimi. E adoro un sacco il profumo. Quindi, anche questi, se li trovate, ve li consiglio. Anche perché avete un sacco di cose, tra cui i glitter di due tipi, tre slime, insomma. Molto carini. Anche la confezione è molto bella. E ecco, non penso di aggiungerceli per ora a questi. Magari poi lo farò in seguito. Comunque mi piacciono. Quindi, questo è tutto quello che abbiamo aperto oggi. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un pollice in su. Iscrivervi al canale e dirmi quello che ne pensate. Questo qua probabilmente non avrà commenti, quindi ve lo linko nella community, in un post della community. Così potete commentare lì. Vi ricordo che tutti questi video di questa serie li trovate sulla mia playlist. Quindi andate a cercare la playlist sul canale. E niente, potrete vederli tutti dall'inizio fino ad oggi. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!